Oggi preparo la pasta a frolla per fare i biscottini a bracci. Questi sono gli ingredienti. 2,50 di farina, mezza bustina di vanillina, 110 di zucchero, 185 di burro, 2 rossi, un cucchiaio di miele, il cacao, la buccia di limone e un pizzico di sale. Adesso impasto la frolla a mano due minuti sul tavolo. Metto tutti gli ingredienti sul tavolo. Farina, vanillina, zucchero, burro e rossi d'uomo. Solo i rossi, un pizzico di sale. Resto il cucchiaio di miele. Ho messo i due rossi e grattugio un po' di buccia di limone e poi l'impasto. In due secondi è già pronta la frolla che poi la metterò un po' in frio. Si fa in fretta. Ed è una buona frolla. Ho diviso la pasta a metà. Adesso metto 18 grammi di cacao. E l'impasto è tutto a scegliere. Dopo 30 minuti ho tolto la pasta dal frigo, coperta era, e per la soda si riesce meglio a intrecciarle. Vedete che bella dura la pasta. Io ho calcolato delle palline di 10 grammi l'uno. Vedete che bella! Grazie. Adesso le metto nel forno preriscaldato sui 180 gradi, dopo 12 minuti i biscotti sono pronti. Ben cotti, ben dorati e profumati. Questo è il famoso biscotto a baracci, ha un bel sapore di cioccolato e frolla.